ciao a tutti oggi facciamo un burro cacao questo l'ho fatto con l'olio di avocado come vedete un po verde chiaro perché è un periodo che ho le labbra secchissime soprattutto gli angoli della bocca che a volte quando apro la bocca mi si spaccano addirittura bevo due litri d'acqua e tutto e porto questo sempre sempre con me e lo applico di continuo l'ho messo l'olio di avocado a posto perché è un olio molto nutriente e ci aiuterà anche la vitamina e e la cera d'api della cera d'api che aiuta a proteggere le nostre labbra se volete vedere il resto del video del video rimanete con me noi ci vediamo al prossimo e vi mando un grosso bacio ci occorre del burro del karité o può essere anche burro di mango burro di avocado quello che avete in casa della cera d'api in questo caso c'era de candela e anche del olio di avocado può essere anche odio di argan odio di jojoba io uso questo perché molto nutriente della vitamina e che in questo caso io ce l'ho liquida però potete usare anche delle perle che vengono in farmacia di vitamina e poi andremo a sciogliere il tutto in un bicchierino come questo al bagno maria e come contenitore andremo a usare questi due cominciamo a mettere il nostro burro di karité ho già messo il burro di karité qua e adesso andiamo a mettere la nostra cera e adesso mettiamo il nostro olio potete vedere già qua e l'olio e andiamo adesso con la vitamina e oggi ha messo tutto nel nostro bicchierino di vetro che non l'ho messo direttamente sulla bilancina perché andrebbe a sballare il tutto perché molto piccola e adesso andiamo a farle un bel bagnetto maria è già al bagno maria e aspettiamo che si sciolga il tutto abbiamo già sciolto il tutto e andiamo a metterlo nel nostro contenitore li lasciamo asciugare 24 ore ai 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 come vedete questo è il nostro burro cacao finito è bello duro e nutre veramente la labbra anche perché dura parecchio spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo al prossimo ciao